Il prisma ha la capacità di scomporre l'occhio e mostrare i colori del mondo. Dicono un servizio, per me, immaginato. Vorrei essere un prisma, vorrei sapere incassare i conti e trasformarli in possibilità. Vorrei affrontare la vita così, pensare che ciascuno, più una prova contraria, sia un insieme di impidite e decisioni dell'ente. E che ogni cosa che incade, anche se non capisco subito, farà per sempre parte di me. Vorrei rinunciare da un'incertezza, per ricevere in cambio la capacità di mettere in dubbio le cose. Ascoltare, riflettere, a costo di convincermi di non aver fatto abbastanza. E poi, a qualche volta, darmi tregua e accettare il problema così. Non siamo nati per non sbagliare mai. No, siamo nati per sbagliare. Per chiedere scusa. Per dire grazie. E ogni volta aggiungiamo un pezzettino, pensiamo che solo i bambini possano imparare dalle esperienze. Smettiamo di farlo solo perché, nel frattempo, siamo diventati ad un uomo. Per donare i nostri errori potrebbe aiutarci a farlo anche con quelli degli altri. O viceversa. E mentre proviamo ai segni ogni giorno, tutto introniamo. E sembra diventare più con me. E' per questo che vorreste aver combattuto contro le ingiustizie. Quelli che non vanno capite, comprese e giustificate. Che anche passando attraverso il prismo, continuano a fare schifo. Questo mondo, questa realtà, sono tutto ciò che abbiamo. E sarebbe giusto fossero più belli, più equi e più facili per tutti. Ma così non è. E allora è arrivato il momento di incazzarsi e lottare. Perché forse, solo tutti insieme, possiamo ancora cambiare le cose.